Diciamo basta la violenza contro le donne. Ogni anno milioni di donne vengono aggredite da persone che li amano, persone che gli stanno accanto. Fai come me, chiama il 45599 e anche tu puoi fare la differenza. Fino al 16 marzo sostieni Amnesty International, invia un sms al 45599 o chiama da rete fissa. Amnesty International, dobbiamo fare la differenza, dobbiamo dire basta, dobbiamo alzare la voce e insieme possiamo farcela.